Ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi vorrei portarvi un video vi mostro questa stampante che ha catturato un attimo la mia attenzione sia per i suoi aspetti positivi che per eventuali aspetti negativi che discuteremo in questo video ovviamente non sto dicendo di portare in video quella che è la stampante laser a colori per casa migliore in assoluto anche perché non è nemmeno un prodotto nuovo sto solo dicendo che questa tecnologia e le caratteristiche che caratterizzano per così dire questo dispositivo mi piacerebbe vederle anche su prodotti più recenti visto che questa stampante ha circa 10 anni ormai quindi insomma non è nemmeno un prodotto recente la stampante laser a colori compatta domestica più venduta al momento e se vogliamo più venduta in assoluto è la HP Color Laser 150A che adesso vedete che vi posto il bel ad di Amazon qua a schermo notate qualcosa di familiare eppure questa stampante è in vendita da quanto è tipo un anno e mezzo che è uscita questa stampante cioè è veramente poco tempo eppure cavolo è proprio un design estremamente simile alla Samsung CLP360 una stampante che è uscita 7 anni fa ecco diciamo che nel corso degli ultimi anni l'innovazione se vogliamo la ricerca sulle stampanti laser a colori domestiche compatte penso che sia praticamente ferma o quasi o almeno non abbiamo visto novità negli ultimi anni questa stampante è praticamente identica se vogliamo una CLP365W una stampante prodotta da Samsung circa 7 anni fa ora non è una cosa così strana per il semplice fatto che il reparto printing di Samsung è stato acquistato da HP quindi HP ha tutto il diritto adesso di prendere i design e tutti i prodotti che venivano venduti sotto marchio Samsung e rivenderli marchiati HP assolutamente il problema qual è? è che questo design di prodotti non sono affidabili hanno delle prestazioni estremamente scarse inevitabilmente e soprattutto è un design di 7 anni fa e poi questo in realtà non sarebbe nemmeno troppo un problema perché comunque ci sono stampanti che sono molto più vecchie che comunque sono utilizzabilissime al giorno d'oggi ho fatto appunto uno dei miei ultimi video sulla Epson EPL 6200 che è una stampante di più di 15 anni fa eppure al giorno d'oggi è una stampante che se si trova magari per poco è una delle migliori stampanti laser monocromatiche che si possano ottenere allora perché questo è un design a parer mio dico terribile ma quasi questa stampante non quella che avete qua davanti la HP Color Laser 150A o Samsung CLP365W che è la stampante laser più venduta tra le laser colori in ambito domestico perché è un design così terribile? prima di tutto affidabilità a meno che HP non abbia fatto una modifica queste stampanti che penso proprio di no queste stampanti hanno un problema che è abbastanza comune del fatto che un solenoide che aziona la presa carta ha un pad di una specie di spugna che attutisce il clac che fa il solenoide quando si attiva che praticamente dopo un tot di anni diventa colla e quindi la stampante smette di funzionare ora questo è un difetto che molte stampanti laser hanno e stampanti laser anche più professionali il problema è che di solito non succede dopo così poco tempo cioè queste stampanti possono manifestare questo problema nelle condizioni standard anche dopo qualcosa come meno di 5 anni quindi è veramente un difetto di design o comunque un difetto di qualità di produzione comunque penso che sia un design molto inaffidabile per questo motivo seconda cosa la stampante utilizza 4 cartucce toner separate però un solo tamburo di stampa questo porta a un bel po' di problemi il primo è un problema di prestazioni è una stampante che fa 18 pagine per minuto in bianco e nero il che ci sta velocità di stampa di tutto rispetto ma fa 4 pagine per minuto a colori 4 pagine per minuto a colori è una velocità di stampa imbarazzante cioè vi metto qua a schermo alcuni dati di una hp desk jet 6540 che è una stampante che ho trovato completamente a caso oggi questa è una stampante che è uscita nel 2004 quindi 16 anni fa e come potete vedere ha una velocità di stampa a colori in qualità normale di 600 dpi che è la stessa qualità a cui stampa anche la 150A di 5,7 pagine per minuto è più veloce è una stampante di 16 anni fa piuttosto che è una stampante laser nuova come la hp color laser jet o color laser 150A penso che questa sia una velocità di stampa imbarazzante per quanto riguarda il colore e una persona potrebbe pensare vabbè ma non è così tanto un problema perché comunque si presuppone che una persona stampi relativamente poco a colori anche se magari prendo un documento che ha molte pagine in nero e qualche pagina a colori chi se ne frega se quelle due o tre pagine a colori me le stampa più lentamente e no perché se io prendo un documento che magari ha 100 pagine in nero e 4 pagine a colori tutto il documento verrà stampato come se fosse un documento a colori cioè la velocità di stampa sarà notevolmente ridotta in quanto la stampante deve iniziare il processo di stampa con una velocità del motore ridotta non è una cosa così semplice come si pensa del tipo che mi stampa le pagine in nero più veloce le pagine a colori più lente no tutto il documento deve essere così quindi risulta comunque in prestazioni notevolmente basse se vogliamo sulla velocità di stampa senza parlare del fatto che appunto essendo che la stampante ha un tamburo solo praticamente la stampante deve fare 4 cicli di stampa per stampare un documento a colori perché ovviamente deve fare 4 passate con il tamburo e questo praticamente porta al fatto che se un tamburo mi stampa 16.000 pagine in nero mi stampa 4.000 pagine a colori cioè è un design che reputo veramente non terribile appunto però abbastanza scarso posso capire comunque che sia la stampante laser domestica compatta più venduta appunto perché è un design che viene portato avanti e venduto tuttora questa stampante xerox che è la phaser 6000 invece non è più in vendita e non è più in produzione e ci terrei dire anche che questa stampante qua che è appunto la xerox phaser 6000 è praticamente identica alla epson acu laser c 1700 quindi se ve lo chiedete magari avete notato qualche differenza sì sono praticamente quasi la stessa stampante e penso che siano entrambe prodotte da xerox però non ne sono sicuro perché non ho mai messo le mani su una c 1700 di epson in realtà però essendo che epson ha fatto produrre ultimamente le sue stampanti laser a altri produttori mi viene più facile pensare che siano prodotte da xerox cioè che l'oem sia xerox in realtà per queste stampanti ma a parte questo questa stampante che è uscita circa 10 anni fa quindi è un design più vecchio rispetto all'hp o samsung di cui vi ho parlato finora praticamente ha delle dimensioni che sono quasi identiche diciamo che l'hp è una 38x31x21cm quindi lunghezza profondità altezza questa xerox invece è una 39x30x23cm circa quindi occupa un volume che è pressoché identico a una a un'hp o samsung che sia senza contare che qua possiamo semplicemente togliere la carta e chiudere lo sportello frontale mentre sulle stampanti di quella serie quindi samsung barra hp o comunque quelle stampanti dobbiamo togliere il cassetto premere il tastino chiudere il cassetto e rimettere il cassetto all'interno per ottenere una superficie frontale della stampante completamente piatta quindi queste se vogliamo potrebbero essere considerate anche più compatte di quelle però appunto essendo un design anche più vecchio possono stampare fino a 10 pagine per minuto a colori e 12 pagine per minuto in nero è una velocità di stampa che si è un po' più lenta per il nero però comunque ci sta paragonata delle stampanti che possiamo aspettarci al giorno d'oggi di utilizzare però 10 pagine per minuto a colori sono una stampante laser domestica così compatta è veramente ottima come velocità di stampa per un prodotto così compatto e possiamo appunto vedere che non è affatto male come stampante per quanto riguarda qualità comunque resta una stampante per documenti nel senso non è una stampante fotografica nessuna stampante laser è una stampante con qualità fotografiche assurde però comunque le vediamo non è affatto lenta adesso fa il caricamento del toner e stampa il documento è anche abbastanza silenziosa quindi non è affatto male come prodotto ha anche una qualità che reputo comunque ottima per la stampa di documenti non è affatto male o comunque è un design che secondo me è estremamente superiore rispetto alla samsung barra hp che abbiamo visto finora però questo design è nato una decina di anni fa e non è più in produzione per quanto so non esiste più non ci sono nuovi prodotti sul mercato che utilizzano una tecnologia di questo tipo ora di tutto rispetto per queste stampanti comunque devo dire che non è il design migliore del mondo nel senso che questa stampante appunto ha 4 tamburi non ha un tamburo solo come sono le stampanti hp para samsung quindi qui si spiega perché raggiungono una velocità di stampa che effettivamente è molto più veloce ha 4 tamburi invece che 1 si però queste stampanti non possono essere tra virgolette riparate nel senso il gruppo immagine è uno solo che comprende 4 tamburi 4 unità developer cioè è una stampante che ha un intero gruppo per la stampa e non è sostituibile dall'utente finale non possiamo sostituire i tamburi non possiamo sostituire le scinghie di trasferimento non possiamo sostituire niente che non sia i toner quindi significa che se una stampante laser come può essere ad esempio l'hp io posso prendere e togliere i toner togliere il tamburo togliere la cinghia qua non posso cambiare niente che non sia i toner quindi si se vogliamo questa un grande lato negativo certo probabilmente se l'avessero fatta sostituibile dall'utente per quanto riguarda i tamburi e i gruppi immagine non sarebbe stata così compatta assolutamente sarebbe stata molto più ingombrante però appunto c'è da dire che effettivamente è una stampante che non è così tanto buona sotto il fatto della riparabilità c'è da dire anche un'altra cosa però i componenti che sono all'interno di questa stampante sono pensati per essere quasi infiniti nel senso i tamburi di questa stampante non hanno una durabilità hanno una superficie che tecnicamente è quasi totalmente indipendente dall'usura dal numero di stampe diciamo che non è possibile sostituire i tamburi non è possibile sostituire il gruppo immagine però hanno durata molto superiore a quelli di una stampante come la HP 150A o Samsung CLP360 eccetera essendo che è un prodotto poco recente ha soltanto il USB come connettività non possiamo collegarla tramite rete tramite wireless nemmeno tramite rete cavlata se vogliamo quindi per questo io dico che non sarebbe affatto male come cosa quella di vedere un prodotto come questo ripensato come tecnologia per prodotti nuovi cioè non sarebbe affatto male secondo me vedere delle stampanti che utilizzano questa tecnologia nuove in vendita sarebbe ottimo secondo me magari con le nuove tecnologie facendo un po' di ricerca potremmo ottenere anche una velocità di stampa addirittura un pochino più elevata perché pensiamo che comunque questa è una stampante che fa 12 pagine per minuto in nero 10 pagine per minuto a colori ed è una stampante che è uscita 10 anni fa ok potenzialmente con delle nuove ricerche nuovi prodotti nuove tecnologie potremmo anche pensare di dare una stampante con questa tecnologia che ha una velocità di stampa anche un pochino superiore e un produttore del genere secondo me avrebbe tutte le carte in regola per distruggere completamente un design come può essere quello delle HP o Samsung che abbiamo appena visto cioè è una stampante per documenti dalle potenzialità che secondo me sono affatto male velocità di stampa ottime qualità di stampa per documenti più che buona e ci metti la possibilità di collegarla in rete ci metti la possibilità di utilizzarla in ambiente domestico una stampante così compatta con queste caratteristiche secondo me sarebbe veramente ottima da utilizzare quindi per quello dico che mi piacerebbe sinceramente vedere una tecnologia come questa sviluppata e attuata su stampanti recenti e venduta su stampanti nuove secondo me sarebbe un'ottima cosa cioè sarebbe veramente una bella cosa vedere delle nuove stampanti così compatte a colori per casa con quattro tamburi laser così economiche sotto l'aspetto del costo per pagina e con una velocità di stampa come questa quindi io spero che questo video vi sia interessato e detto questo vi saluto qua vi lascio a eventuali riflessioni nei commenti se volete dirmi quello che ne pensate se avete avuto una stampante di questa serie o anche una epson o anche una samsung hp e volete dire comunque cosa ne pensate riguardo a ciò che ho esposto in questo video sentitevi liberi di farlo e ovviamente leggerò e risponderò a tutti i commenti eventualmente quindi niente ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti